Che cazzo... Cosa è quella roba? Guarda come mi chiedo al dentro! Stavo scherzando... No... Non ho capito... Ah ok... Posso uscire... Non ho paura di svegliarlo... Ah ma dovevo chiuderlo qua dentro? Allora... Lo attiri... Lo sai che per molte cose ci sono... Molti... Puoi fare più cose... Ovviamente ricordati che quando non uccidi non droppa... Quindi... Fai tu... Fermi tutti queste split... Perchè lì ha fregato un cazzo? E la prima volta l'ho mancato... Lo so già che tanto... Appena mi avvicinò... Pettico... Non viene qua? Pettico su pazzammerda... Ehi... Agita e Gusta! Cosa deve fare? Guarda ci sono i fantasmini che fanno tra la la insieme a lui. Andiamo. Non lo vedo. Cosa fa? Pettico burro. Pettico burro. Hai sospeso nella caviglia. Ti ho liberato amico. Frammento di grande di titanite e scrementi. Minchia. Che drop. La feccia, letteralmente. Però sembrava più cattivo. Devo ammetterlo. Perché stai arrivando? Niente. Che cazzo è quella roba? Mi viene a dare una malacosa. La smetti di tenerti tutti questi segreti rilacchiando come un deficiente? Qual è il segreto? No. Boh. Ale uno alla volta. Ale sta pregando quello. Ale sono moltissimi. Non disturbarlo allora. Ti ha preso. Mamma mia. Eh. Eh. Corpo di Cristo. Vieni. Via, via. Perchè? Perchè? Perchè stai ridendo? Non so. Non sorriderà molto. No, non ti ho toccato eh. Non mi impallisti. Quanti cazzo sono? L'hai visto? Ale! Il mancime! Eh, più ti cuore. Noniii! Tutto male. Io non ho altra cura eh. Ci fermo? No, io so che qua c'è un cazzo di boss. Eh cazzo proprio! Venga, per me. Hai la sensazione che quello non fosse un boss. Dato che non era un boss. Ho la sensazione che appena mi avvicino a questa cosa ci sia qualcuno che fa la 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 la. Qualcuno che fa la 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 c'è? Spoiler. Ah, qua siamo qua, ok. Ora si è il muto. Pocchiamolo. Voglio vedere cosa fa. Orazio! Che strazio. E' il mincazzo. Traccannando proprio. Diaconi della profondità. Perchè sono moltissimi? Perchè uno è grasso? Non sono all'oro. E' quello grasso vero? No. E' solo più duro. E' già morto Orazio. Mi sa che non è neanche entrato Orazio. Ah, non è lì. Sta facendo cose. Per curare. Minca. Ululú. Ululú. Stanno spawnando all'infinito. Non è che devo attaccare quello con la fiamma. Ah, scusami. Sì, adesso ti curo. Vieni! Non ne ho più eh. Quindi stai attento. Ok, quindi devo attaccare quello con la... Che spara? Quello con la fiamma. Sono molti però il cazzo. Orazio! Per favore. Caldissimo qua sto. Tutti coloro. Questo è proprio Chris. Sono arrivando i sacrispini! È Chris! Sta arrivando. Guardalo! Guardalo! Guardali com'è pregano! Lo stanno scoppiando! Ho fatto anche un' Aspettura. Guardalo! Una volta poi! Mi parlo di due carrelli! Ho fatto così eò! Ho fatto così eò! Minca lo circondano! Sono moltissimi! Non ti sei accorto, vero? Sei morto? No! Cosa è successo? Ho niente! Cosa sono facendo? Ah... Cristo è proprio orgadentore! Ah, mi dai una mano? Eh, ma non voglio dirti cosa stanno facendo! Voglio che te ne accorgi! Attaccando già sto attaccando, però non avendo cure devo stare attento! Cosa stanno facendo? Stanno evocando qualcosa, vero? No... Eh, minca basta! C'è già Cristo lì in mezzo! Scusa poco a poco! No, lo stanno curando! Era quello quello che mi stai dicendo? Sì! Continuamente! Ogni volta dopo che sparano la bolla vanno a curarlo! Che cazzo è questa cosa? È a tempo? È la parte... È la parte finale! È la parte finale! È la parte finale! È la parte finale! È la parte finale di video! È la parte finale di video! È la parte finale di video di documentzione... Ah, no! Dove siamo? Ah si l'ho fatto anch'io questo. Sotto da solo? No, l'ho fatto insieme. No? Non l'ho aperto. Io con te non sono mai venuto a aprire il portone principale. Oh, perchè c'è Sigmund? Devo venire a parlare con Sigmeyer allora. Sì, devi anche passare sul ponte. Perchè? C'è... Man. Ah? Lui... Amoletto del duellante. ... ... ... ... ... ... ... Che pezzo di merda! Davvero mi è successo questo? ... ... ... ... Da me non è morto. Ah, quello lì. Questa parte non mi è successa. Questo perchè non l'ho incontrato... ... ... ... ... è gigante. Ma io ero dall'altra parte... ... ... ... ... ... ... ... ... Ma io ero dall'altra parte del ponte! Eh, vabbè, stai. Tu non conti. Sei il fantasma. Potevo rialzarti e andavamo a scopiarlo. È stato apposta. Pettico, suonzzami. Comunque a me questa cosa non era successa. E probabilmente succederà... Ah, neanche a te succederà. Ah, vabbè, tu non ci sei andato, ma anche a te dovrebbe succedere. Perché... Dopo vado, ci provo. Perché... No, veramente non lo so. Devi... In pratica... Tu l'hai comprata la chiave, quella da 20.000? No. Della torre? Ok, quindi non l'hai fatto quel pezzo. Eh, se ne sarà andato adesso. Sì, penso di sì. Oh! Cioè, veramente non lo so. Pettico, suonzzami. Chissà come funziona con... con questo... Dovevamo alzarlo. Sì, cazzo, mi sono dimenticato. Mi ero alla fretta di vedere se c'era il bastardo. Ehm... Vabbè. Non ce l'ho quella. No, non ce l'ho. Una cosa per le cadute. Vabbè. No, non ce l'ho. No, non ce l'ho. Ammolato dal duellante. Ciao. Ciao. No. No. Grazie a tutti. 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 Smettila, smettila direttamente. Qualcosa non andava. Ne ero sicuro. Paces l'indistruttibile. Petticoro. Petticoro. Giocare così per vedere chi ha la meglio. Basta batto. Che c'è? Non mi ricordo dove cazzo è con la leva. Ma quanto cazzo di equilibrio ha? C'è l'equilibrio. Non c'è più l'equilibrio. Ma smetti di bare fiaschetta, bastardo. No come il 2. Dov'è cazzo è? Sto sparando. Ok. Giocare così. Spadone di astora. Spadone di astora. Ma proprio adesso mi devono evocare come spirito blu? Cristo santo lo tolgo. Spadone di astora. Spadone di astora. Spadone di astora. Sì, sì. 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 Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.